Una sfida all'alimentazione globale, promuovere e sostenere nuove opportunità per i giovani legate all'innovazione del cibo. Stiamo parlando di AgroGeneration, ci dice tutto Marina Nalesso. Una tecnologia ecosostenibile perché vanno a elettricità, quindi non inquinano, ma aiuta tantissimo l'agricoltura e l'ambiente. Decolla l'agricoltura grazie anche a un drone che fa il lavoro di 10 agronomi. O con l'agricoltore idroponico, il coltivatore di funghi coi fondi di caffè, un florovivaista i-tech. E c'è anche chi ha l'ambizione di nutrire non solo il pianeta Terra, cibo spaziale in tutti i sensi. Ad esempio con la possibilità di generare il cibo direttamente a bordo le nostre assodavi o in futuro anche su un nuovo pianeta, sulla superficie di un nuovo sistema planetario. AgroGeneration, giovani digital e imprenditori agri-food. Una generazione inedita, immaginifica e visionaria, tutti riuniti per avanzare proposte sulle sfide dell'alimentazione globale. Una generazione che dice addio ad ogni spreco come chi con gli scarti fa veri e propri miracoli. Dalle piante di canapa industriale italiana ha sviluppato un filamento per stampa 3D termoplastico col quale possiamo stampare qualsivoglia tipo di manufatto. Sprecare il cibo non è soltanto da un punto di vista etico qualcosa di condannabile, ma dobbiamo pensare che dietro il cibo c'è dell'energia. Ci sono dei prodotti chimici, ci sono dei rifiuti, ci sono dei trasporti. Una nuova filosofia di vita per fare dell'Italia il faro del rinnovamento agroalimentare europeo. Esperienze che offriranno soluzioni e prospettiva al modello agricolo italiano in un intreccio sempre più profondo tra giovani generazioni, innovazione ed esperienza agroalimentare del nostro paese.